Erano dediti ad arrescare clienti stranieri facoltosi tramite il web e gli rifilavano autoveicoli di lusso e d'epoca per scomparire una volta incassati i lauti compensi. La gang è stata smantelata dai carabinieri di San Valentino Torio che questa mattina ha portato in esecuzione di ordinanza applicativa di misura cauterale personale emessa dal GIP di nocere inferiore al divieto di dimora in tutta la campania di un 66enne dell'agro nocerino già noto per fatti analoghi all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il figlio 25enne alla denuncia di 7 persone, tutti indagati con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a truffe e riciclaggio. L'indagine è partita nel 2016 e ha documentato 12 truffe per un valore di un milione di euro. Altre due erano in fase di conclusione, avrebbero portato 300.000 euro nelle casse del gruppo criminale ma sono state bloccate dai militari. La svolta delle indagini è arrivata anche grazie a un gruppo Facebook creato dai compratori truffati che invitavano gli altri internauti a non cedere alle promesse del 66enne. L'operazione ha portato anche al sequestro di 300.000 euro depositati in vari conti correnti, intestati o riconducibili all'uomo a capo dell'organizzazione. Sigilli anche a una palestra gestita dal figlio 25enne finanziata interamente con i proventi delle truffe.